Però c'è un momento importante perché dobbiamo collegarci con il nostro giornalista d'assalto lui che è sempre sul passo, sempre la notizia pronta quindi facciamo partire la sigla e colleghiamoci con il nostro Sasa Borghetti Borghetti! Buongiorno a tutti, buongiorno, andiamo a Napoli qua stiamo a vedere Borghetti, il vostro giornalista d'assalto sempre sulla notizia, cose di ieri, cose di oggi soprattutto cose di domani e dopodomani Perfetto, quindi ha le notizie già belle e pronte lui è sempre lì sulla notizia del giorno Grandi notizie, grandi cose una radio nuova, una radio per la città una radio che non parla soltanto di calcio anzi non parla soltanto di calcio per distinguerci dagli altri, per distinguerci dalle altre vittenti noi andiamo avanti, Napoli sta cambiando Ed è proprio per questo che noi abbiamo scelto te Borghetti per non parlare delle solite cose del calcio No, no, specialmente poi oggi ogni volta che c'è una partita qui non si fa se parlare del... ieri il Napoli ha vinto quindi puoi immaginare tutte le radio di Napoli stanno facendo tutta la stessa cosa era sempre la partita, le cose così, fra l'altro insomma era una partita anche, diciamo, piuttosto facile quindi noi non credo che parliamo era abbastanza facile, comunque sì la partita di ieri era facilissima è facilissima proprio ogni squadra che gioca con Napoli è facilissima non ci capita ma scusi, l'ha detto lei che era fatto no, 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 perché che si fa è stato a Napoli-Garie, capite? a Napoli tutti quanti i tre squadri che giocano con Napoli si perdono, sono facilissima le squadre da sui scatti ho capito, ma... la sui scatti è un Napoli che è forte ho capito, ma l'ha detto lei l'ho solo ripetuto vabbè, esatto finiamolo di parlare di calcio perché c'è la notizia importante cioè di... andiamo avanti ma siamo a fare le calci della querela che ha fatto De Magistris sì, sono qui De Magistris un attimo sono stato qua di via dei mille vai, 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 porti allora, sta a buttare ma che sta a buttare? ma che sta succedendo? Borghetti che sta facendo? sto bevendo le cose sono un gruppo di noi vabbè perché state comunque vedendo un po' delle notizie state insieme a cercare di capire sì, siamo qua sono un ricco la pizzeria ma qua siamo un po' un attimo su ma che Napoli-Napoli? ma Napoli-Napoli chi non sa? pronto? ma Napoli-Napoli nel senso forza Napoli perché Giletti parlava male della città di Napoli della Napoli della città di Napoli no, no, della città ah, della città non della squadra esatto no, no, no anche perché che ci non portano adesso cerchiamo di andare avanti difendiamo questa città forza difendiamo soprattutto la città come città sì, esatto esatto non parliamoci tutto mamma mia guarda una cosa incredibile che sta accendendo proprio ma che sì sono Napoli no, e infatti ha proprio ragione Borghetti lei è l'uomo giusto basta ma ci dimostra basta basta 5 a 1 ma la vuole smettere basta parare di Napoli 5 a 0 abbiamo capito Borghetti ritorni in sé non parliamo di calcio andiamo avanti con le altre ritorni in sé lasci i suoi colleghi da parte che a quanto ho capito la città sta crescendo vai oh, la città sta crescendo ci serve uno sprono una forza in più per andare avanti una forza in più c'è una gennaio ma che cattava a Cruno ma che a gennaio con Cruno Borghetti la forza in più la forza in più la forza in più sono i cittadini napoletani sì, certo i cittadini eh, sono quella la forza in più no, no io ho tutti i rifusi che portano i sottostati vabbè un attimo solo che è arrivato un cameriere e stiamo fettando ma che cameriere Borghetti lei è in diretta con una radio non può stare al ristorante a fare i fatti suoi vabbè i fatti miei siamo tutti di noi stiamo festeggiando festeggiando cosa? è arrivata la torta la torta per che cosa Borghetti? 5 su 5 5 5 palloni i palloni immagino 5 capito? non c'è manco bisogno di quello che me lo dicano 5 palloni ma non ci rimane ma vesteggiamo basta 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 io non ce la faccio con lei Borghetti non ce la faccio non c'è modo di parlare d'altro se non di Napoli quanto mai? vuoi collegare con me proprio perché mi fanno una radio diversa dagli altri e che c'è ma parlare di Napoli 2 ore no ma giù è meglio di no allora meglio di no 5 palloni basta basta ciao ciao Borghetti arrivederci alla prossima alla prossima ciao l'unione fa la scorza ciao l'unione l'unione